Il capogruppo della Lega Nord presso il Consiglio Comunale di Città di Castello Stefano Caselli ha presentato un'interrogazione a risposta scritta in merito ai conti e dalla gestione alla partecipata Polisport, società che si occupa di impianti sportivi. Caselli ha espresso le sue perplessità in una dichiarazione da prima di tutto premesso che la trasparenza nella gestione della società partecipata rappresenta uno dei capisaldi della democrazia nella gestione comunale. Considerato però che dall'analisi del bilancio di previsione discusso in una delle sedute scorse della massima assise comunale emergono elementi di perplessità in merito ai conti e dalla gestione della partecipata Polisport e tenuto conto della legislazione vigente in merito alla trasparenza degli atti della pubblica amministrazione, il capogruppo della Lega Nord ha presentato una serie di richieste. La prima prevede di poter estrarre copia dell'organigramma e delle funzioni gramma della partecipata Polisport. Caselli ha anche chiesto di avere informazioni precise in merito alle retribuzioni e dei premi stabiliti per il personale inorganico, di avere copia di eventuali posizioni fideiussorie, qualora esistenti, che il Comune di Città di Castello avesse acceso a vario titolo a favore dalla partecipata Polisport. Ultimi punti dell'interrogazione sono fare in modo che la partecipata Polisport pretende il pagamento delle pendenze esistenti nei confronti delle società sportive debitrici e ristabilire una gestione managerialmente corretta ed in linea con quanto dovuto agli elettori. Dopo la presa di posizione del capogruppo della Lega Nord di Città di Castello Stefano Caselli si attende ora una risposta sulle questioni sollevate.